Sta venendo da parecchi anni da parte della Chiesa, sta venendo avanti questa valutazione, cioè al primo posto la sofferenza delle vittime, al primo posto anche la richiesta di giustizia delle vittime, la richiesta di verità sui fatti che sono stati compiuti e quindi anche una maggiore trasparenza in quello che è successo, una maggiore comunicazione e naturalmente dei provvedimenti contro gli abusatori, chiunque essi siano. È vero che lo scandalo c'è, perché viene scandalizzata una comunità quando si impara che un chierico religioso ha commesso di questi fatti, ma è anche vero che è più importante salvare le vittime, dare loro giustizia ed anche evitare che le persone che sono state autrici di questi reati li ripetano in futuro se non si prendono dei provvedimenti seri nei loro confronti. Questo anche giustifica il passaggio all'autorità civile. Deve esserci una reazione comune di tutta la società, non solo a livello intra-ecclesiale ma anche sociale, contro questo tipo di abuso e per fermare gli abusatori. Se è possibile, è una cosa difficile, lo so, anche aiutarli a saltar fuori, a uscire da questa forma di abuso e naturalmente con quei provvedimenti, anche con quelle tecniche terapeutiche che possono forse aiutare la persona a raggiungere un certo controllo di se stessa, ma a noi anche preme, se fosse possibile, se la persona è disponibile, un recupero anche dal punto di vista spirituale.